Ciao a tutti amici e benvenuti nel mondo di mafi! Oggi andremo a fare insieme una cover personalizzata per telefono. Come vedete questa qua è trasparente, però come notate è leggermente iscurita perché questa qui è la mia cover che uso sempre, da trasparente è diventata assurrosa. Onestamente non so come possa succedere questa cosa, però è orrenda da guardarsi, quindi me la volevo decorare in una maniera carina invece di sostituirla e cambiarla del tutto. Ora andremo a vedere come la facciamo, che cosa occorre per fare questa cover personalizzata. un conetto del sac a poche, un intercambiabile, questo qua d'acciaio, con la punta che fa tipo le rose d'aria. Poi una punta intercambiabile per il silicone, come vedete qui ho la pistola di silicone bianco, con un'altra punta nuova. Poi vi faccio vedere come funziona. Come lo dobbiamo andare a decorare questo cover? Nel mio caso, tempo fa, facevo dei piccoli oggetti insieme. Ora vi farò vedere qualcosa. Allora, abbiamo un biscottino pan di stelle, poi abbiamo dei marshmallow, vediamo se si vedono, guardate, ok. Poi abbiamo dei macaron, viola e verde acqua, vediamo se ve lo faccio vedere meglio. Uno, due, due. Poi abbiamo una barretta di cioccolato col mosso, e poi abbiamo dei gelatini, vediamo se si possono vedere come così. Uno con rosa e il cuoricino tanto bellino, e un altro color crema, quindi su un giallino è il cuoricino. Poi ho dei cuoricini in miniatura, vediamo se sono piccoli cuoricini che io usavo per le decorazioni. E poi abbiamo ancora dei piccolissimi marshmallow, sempre per le decorazioni. E mi stavo dimenticando la bellissima crostatina con il cuoricino. E l'ultima cosa, ho questi due cucchiaini che vedremo dove metterli. Perché? Perché la base è andrà pannosa, visto che è fatta con silicone. Ora vi farò vedere come farò questo cover, spero vi piaccia. Ciao! 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 Grazie a tutti. Dopo un paio d'ore di asciugatura del nostro cover è pronto. Guardate, come vedete è bello pannoso e morbido e ha tutte le applicazioni in fimo che abbiamo applicato durante il nostro video. Guardate, come vedete è ancora morbido, ancora una mezz'oretta, un'ora ed è pronto per applicarlo. Come vedete questo è dietro e quindi la nostra cover è pronta. Se volete altri video, tutorial su altri articoli o comunque su fimo o altri materiali in generale, basta che lo scrivete giù nei commenti. Per oggi è tutto, spero il video vi sia piaciuto. Un bacio!